Io voglio stare dietro, col fucile Vado? Sei pronto? Porca miseria Steph Ok, oggi sarà dura Fere, io te lo dico così subito secco ma oggi sarà dura Allora, il nostro piano è questo, l'abbiamo visto nel musica foto, oh mio dio, questa roba va provata L'abbiamo fatta con i carrelli, quindi è prevalentemente la stessa cosa, però secondo me sarà molto più figo Praticamente, rampa altissima, altezza massima, andiamo con la macchinetta e scendiamo a massima velocità Discesa rapida al massimo Discesa rapida al massimo Però se ci pensate va molto più veloce come veicolo e quindi tendenzialmente dovremmo diventare dei fulmini E morire Quello è l'obiettivo Allora, la cosa difficile come sempre qual è? Andare a rubare un veicolo alle Zilinx, quindi sarà abbastanza agitante Fere, è ancora Borgo Bislacco per te? Ok, non hanno ancora cambiato No, no, non mi interessa della truscia in italiano, ma chi se ne frega Ma chi se ne frega? E dicevo, andiamo prima lì, dopodiché vediamo un attimino dove chiude la zona, il primo cerchio Ci cerchiamo del posto proprio più spaesato del mondo Esatto, esatto E ce la tentiamo, secondo me qualche tipo lì, sfigatello, che se ne sta là pronta a spararci, ci sarà lo stesso Però noi ci dobbiamo provare Dai, speriamo di no, se comunque ci posizioniamo bene, secondo me ci sono buone probabilità di riuscita Fere, sei fiduciato assolutamente perché è il primo tentativo, poi ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto Non è una cosa esageratamente difficile, anche perché i veicoli si trovano in tante zone Allora, difficile no, è fortuna, è fortuna Nel trovare un punto dove non c'è nessuno Magari oggi è la nostra giornata fortuna Qua c'è skill, perché adesso dobbiamo ammazzare tutti e rubare un veicolo, stile GTA Però poi, però poi dobbiamo riuscire ad avere fortuna Si può trasformare questo gioco Sai che non ve lo nessuno? Eh, devi, cioè, Steph, eravamo, devi contare che siamo molto lontani dal taglio Quindi immaginavo non ci fosse nessuno Ho poi detto, magari sei come la foga delle zone nuove Esatto Dura ancora qualche giorno Nessuno vuole giocare a golf Mi sembra strano Evidentemente no Ma, ragazzi, è un bello spazio Oh, meglio per noi, Steph No, certo, semplifica già in parte la challenge Ovviamente Anche se a me preoccupava molto di più l'altra cosa Però scusami Se noi riusciamo a farmare velocissimi la legna Non possiamo farlo qua Esatto, esatto Cioè, ma proprio smetti di lutare dopo che hai due armi e inizia a fare legna Allora, un'arma, quindi va bene Allora, faccio legna nel mentre che luto Ok Funiamo le due cose Però cerca di farlo molto veloce, eh Sì Ok, ok Io ho fucile a pompa, mi manca solo un fucile a salto Per, nel caso, contestare la gente che viene a rompere Ok, anch'io sono uguale a te Uguale a te Perfetto Continuo a far legna Allora, all'incirca ci bastano 500, eh Non serve troppo legna Ok, no, infatti Perché poi l'altezza massima viene bloccata Il problema è che in questo posto la legna un po' scarseggia Già, 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 già Cioè, possiamo fare un po' di alberi Ma c'è davvero poca legna qui intorno Però dai, secondo me in due Rascimolarne 500 non è più così Beh, guarda, io ne ho già 150 Quindi sto andando abbastanza bene Lo so che sei scarsa Veloci, veloci Ok, io ho anche il fucile ad assalto Ma che ce la facciamo subito Due fucili a pompa, due scildoni che mi tiro Anche perché, sai Voglio di vincermi un bel game Quindi, se riusciamo a farla all'inizio, inizio, inizio Poi ci concentriamo Andiamo con il nostro avicolo A prendere anche un altro po' di loot Dato che qua sembra un pochettino povero oggi Sì, sono d'accordo E spacchiamo tutti Allora, io arrivo a 300 Tu sei migliorata? Sì Ma quanto sei? 117 Stavo luttando una chest, ok? Mi serve per il fucile ad assalto, no? Presto vado a fare gli alberi Ok Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Così mi devi sempre stressare Cosa devo... Oh mio Dio, fare, voglio vincere questo game Chi hai trovato? Fucilato un po' nuovo Eh, bello Voglio vincere questo game Ok, allora, munizioni qua Io ho 400 Quindi, non lo so, ti direi che possiamo andare Allora, io ho 220 tondi Ok, pensa a prendere un veicolo Ok Che credo che sei più vicino a tu a me Eh sì, è lì nel campo da tennis Ok, vai, 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 vai No, 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 forse è il campo da tennis Io sto prendendo anche un altro po' di legna Però dovrei andare praticamente a 500 Mentre tu prendi il veicolo E poi, raga, dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo subito Partiamo da qui in alto Non c'è davvero nessuno Ci avrebbero già sparato Giusto? Sto sentendo rumori Sono io che spacco a cancelli, Steph Ah Eh, spaccati Che devo uscire Non si spacca, vabbè Ferre, muoviti Ho fatto un buchino qua Arrivo Ok No, no, ma hai guidato uno di sti robbi È davvero molto veloce Perché lo faccio sempre guidare a te E mi metto nel passeggero Quindi Allora Io farei di così Oh cavolo, Steph, c'è una rampa Ferre, non distruggerci il veicolo È un po' maccato Ci serve Sì, un pochino Ok Andiamo anche verso fuori dalla mappa Più di così non possiamo fare in nessun modo Ferre, non so se ti conviene guidarlo per salire, vero? Esatto Allora, no, voglio scendere Fammi scendere Ehi, basta Allora Aspetta, Steph, aspetta, aspetta Stai fermo? Che c'è? Sto andando avanti Oppure che cada in mare Fermo Ma che cosa? Fermo Mi ci sono messo davanti e sei fermato Allora, adesso vai tu Su e finisci di billare Io ne metto e porto il veicolo E se riesci Quando arrivi all'altezza massima Distruggi l'ultima rampa Crei un po' una piattaforma Perché ho bisogno di fare retromarcia Sì, Steph, ma non è il caso di farla da due Cioè ci stai così dritto dritto È un po' instabile quel veicolo Cioè, non lo so Volevo risparmiare legna L'ho capito, ma Beh, non credo di avere problemi Ok Il problema è la retromarcia Eh, appunto Quello è un problema Allora, così Un po' di ansia Quanto dovremmo andare ancora in alto? Poco Non manca molto Non manca molto Ok Ah, raga Se qualcuno fa esplodere adesso Chiediamo dritti in mare Se qualcuno fa esplodere adesso Dritti in mare Prima di no Ok Io sto ancora costruendo Ho notato Ho finito la legna Eh, totalmente Ok, l'ultimo Riesco a fare quindi solo una piattaforma Tieni Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta L'hai presa? Sì, a volo Devo distruggere Però c'è vero Sono in ansia Smetti, non mi metti Sposa un po' di dentro Un po' di dentro Altrimenti, cadì Ce l'ho fatta Non rompere, Steph Sono a posto Perché devi impazzire così? Calmo Rilassati Guarda che bella piattaforma Ti stanno avendo i brividi Sali Andiamo Io voglio stare dietro Col fucile Vado? Sei pronto? Porca miseria, Steph Ok Per i misi Andiamo velocini, eh Cavolo, Steph No, no Ok, ok Tutto a posto Possiamo rifarla Possiamo rifarla Possiamo rifarla Cavolo, hai iniziato a sbandare Da quanto stavi veloce Già, già Già, 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 già Ok Hai iniziato a sgommare giù Te l'avevo detto, Steph Facciamola a due Invece tu sei tirchio come sempre No, Steph Non in acqua Non in acqua Ok Non in acqua Calmi Calmi Con calma Chi va piano Ma sono e va lontano Allora, Steph C'è anche da dire che siamo lontanissimi dalla zona Mi metti anche una rampa qui Per volare Ah, ok Girati, vai Aspetta, non me la faceva Mettere Niente Ma la fa fare vicino Sì, aspetta Fai un piano Eh, lì Lì Qui? Sì Ok E metti il piano, vai Ok A posto Sali Arrivo E là c'è Ok, vai Ok Ah Basti dritto, Steph Mi raccomando perché poi Siamo lontanissimi Quindi se vogliamo vincere Dobbiamo correre in zona, ok? Ok Si sta arrivando la zona Si sta chiudendo, sta arrivando Questa quella che è la corsa Per andare insieme alla zona adesso Eh, esatto Quindi retromarcia la zona che arriva È proprio film hollywoodiano Guardate, guardate, guardate La zona è arrivata Ah, prendiamo anche danno Prendiamo anche danno Ok Adesso ci arriva addosso Ciao zona Ok, vai Pronta? Sì Prontissima Filme di Hollywood Oh mio Dio C'è la zona Andiamo fuori Dobbiamo correre La superiamo La superiamo La superiamo La facciamo Sì, ce la facciamo Non sbandare Non sbandare Ci sei, Steph Sei bravissimo Voliamo Sì, voliamo Quello è stato epico È stato fantastico Ok Dobbiamo continuare È stato bello, eh Quanto siamo lontani In la zona successiva? Un po' Però non in modo drastico Vabbè, bel po', eh Ecco, li vedo Oh, qui, Steph Qui, 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 qui Che esce proprio dai magazzini Occhio che ti sparano quelli da destra Sì, mi sono un po' coperto, ovviamente Eh, gli ho fatto danno Però ancora shield Ok Ok Ok, queste sono le classiche situazioni In cui non trovi nessuno Poi li trovi tu, Tastiana Già Cavolo, sono difficili da prendere Hanno molta copertura Contanto che stanno coetando così Ah, c'è gente bassissima lì in mezzo Ah, sì Gli ho colpiti pure io Quindi sono tutti bassi Ma questo se sarà mosso È fermo lì Che casino c'è lì in mezzo Cioè, forse sono tre team Uno l'ho ucciso Ok Quindi forse ci sono Io ho pochi colpi Non è che posso stare Gli altri due vivi Quanti colpi hai? 76 Quindi non è che posso stare a sparare troppo Per distruggere le strutture Ok Allora, quello poi qui sopra A me sembra che se ne sia andato Comunque non vedo più movimento Quando l'ho neanche visto sbucare Quindi rimangono solo quelli là Che però Stanno rimanendo lì a billare A curarsi eccetera eccetera E c'è la zona Quindi io ti direi Forse conviene andare un pochettino Verso la zona Ci sistemiamo E poi alla vigliacca li rispariamo Ci sta a buon piano Quando sei povero Ti devi arrangiare con quello che sia Ti devi comportare da povero Esatto Allora La rottura di scatole Che dobbiamo passare Tra tilted e loot lake E lago E lago Che quelle sono sempre zone affollate Già Non avere neanche il cechino Non è stato comodo Infatti questo fight Avremmo potuto fare di meglio Ed è un peccato Io ho niente a distanza Purtroppo Quindi Vabbè Vabbè Va bene Va bene Va bene Va bene Per ora siamo in gioco Quindi Va comunque bene Questi ci riprendiamo Nel caso in cui trovo un cechino In tempo arriviamo Ok Mi preoccupa che per arrivare in tempo Però ci esponiamo A qualche altro player Vabbè Vabbè Qualcuno forse sparasse Verso qualcuno Che era nella montagna Li sento Li sento Io invece non li sento Ma li ho visti Io li ho sentiti Un certo momento Da sinistra Quindi verso pinnacoli Ok Perlomeno Ho rivisto colpi Ho rivisto colpi Ho rivisto colpi Qualcuno sta sparando Qualcuno che sta sopra la montagna Ok Quando sono colpi così È sempre quello Quindi Abbastanza vicini Vedi Sì vedo delle scale Comunque per salire sulla montagna Quella tra 3.30 e 3.45 E sicuramente qualcuno li sta sparando Sì 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 Ok Credo che abbiamo buttato giù uno Sniperandolo Potrebbe essere la fine anche nostra Può essere Vedi 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 C'è il risone Sì Problema Eh ma è sempre così Sì ora li vedo chiaramente Che stanno tutti Eh Che facciamo Non abbiamo cechino Non abbiamo trampolini per salire Oh aiuto Ogni sparato Ho sempre fuori che sta per me Questi sono quelli di prima Sì Però stiamo ovviamente facendo rumore Sì ma non dovremmo avere Problemi Dove sono finiti? Beh sono fuori dalla zona Che vanno verso 60 Ma secondo me potrebbero morire anche prima Eh può essere sì No li vedo C'è uno tolto 20 HP Sono dietro la roccia Quindi aveva già HP E li stava perdendo C'è gente a 15 gradi però sulla costa Ok Eccolo sì Ho tolto altri 20 di vita Mi tocca salire un po' in alto Farmi una costruzione qua al volo Ok uno è dentro Sennò non vedo una certa Ok sento rumori di quei cavolo Di Eccoli qua Dove saranno? Dici che ci vengono addosso? Eh non lo so Perché si sentono sempre molto vicini Anche quando non lo sono Lo so Allora praticamente c'è un team A 30 gradi Che sta sparando il team Che stavamo sparando noi Che è bassissimo Ok ok C'è gente alla Watchtower Vedo 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 Gente sopra di noi nella montagna Beh siamo morti Al 90% Steph Al 95 Ok 90 mi sembra troppo fiduciato C'è quelli che corrono Da una parte all'altra Cercano di restare l'amico? Sono in una situazione del genere Cavolo gli avevo mandati bassissimi Entrambi Mi hanno rubato le kill Nel caso Che ingiustizia Io sto puntando quelli della torre Però aspetta Se sta arrestando l'amico Io gli ho tolto 40 di vita Sai com'è? No 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 Non vedetemi Non vedetemi Vanno sopra la montagna Steph mi stai abbandonando Senza dirmi nulla? Sì ma ho un sacco di tempo Ah grazie 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 Dove andate? Io ho tolto 40 di vita Anche l'altro che stava in vita Ok quelli sono andati Sopra con la montagna Perfetto Ok Io sto pensando di salire Su questa torre Ferre Riesci a coprirmi? Spara la torre Questa qua dove sto lasciando io? Steph sto finendo i colpi Ne ho 40 Cioè non ti posso dare Troppo una mano Cioè se mi avvicino Ho Ucciso Ok ti dicevo Se mi avvicino Lancia granata Il problema è che penso Che stiano cercando Di sparare pure a me Quindi devo saltare molto Correre Cercare di raggiungerti Sei un pazzo Ma ti sembra che Devi andare lì da solo Lo so Scusami Però Mi avvisato Io stavo ancora sparando Quando il 95% È lose Devi fare cose folli Ok Morire prima Esatto 9 volte su 10 Esatto Vabbè amico mio Ma te c'hai sempre 10 HP E non muori Ciao mio caro Steph Non so che fare qua C'è una loot lake Nella villa E aspetta che mi copro Bene qua alle spalle Allora Uno ho tolto 60 di shield Eh cavolo Sto finendo davvero Tanti colpi Io ne ho Però ci dobbiamo incontrare Quello Gli ho tolto 20 vita Quindi non ha shield A un altro Ho tolto Tipo 60 vita Non riesco a prendere le kill Eh sì È tosta Sono molto lontani 20 di vita Vabbè ma muori Qualcuno Dateci kill Niente Li vedi? No sì Steph Li vedo Ma non posso Sprecare tutti questi colpi E distruggere le strutture Purtroppo Cioè non posso 30 colpi Ah se vieni colpito Li posso dare un po' Però Non so che fare Perché il mio scopo Era Luttare qualcuno E tutto abbiamo potuto fare Tranne che luttare qualcuno Esatto Quindi sì Tanti bei danni Qualche quasi kill Però Poi sulla carta Non abbiamo loot Ok Sono qua Steph Sono qua Sono qua Sono qua Sono qua Proprio Una sessantina Eh no lo so Siamo messi male Allora vedo gente a sud ovest Sono tutti sopra le varie montagne Se non chiude fuori dalle montagne Abbiamo perso Ha chiuso fuori dalle montagne Quindi abbiamo qualche chance Che fortuna L'unica fortuna di oggi Beh ha chiuso Gente di fronte a noi Ha chiuso per tre quarti sul lago Quindi non è che sia bellissimo Come taglio Li vedi? Dove? Di fronte a noi A sud Sono lì a loot lake Entrambi con solo HP Teoricamente A meno che non abbiano No ma quelli di prima Sì Eh sì che li vedo Certo lo so che sono là Loro se ne devono andare da lì Sono fuori zona So Eh allora aspettiamo che si muovano Ecco 20 di vita 20 di vita Raga è immortale No sì Sto iniziando a pensare Steph Che Sì è immortale Vero? Ah ah È l'unica spiegazione Quindi sia C'è un altro La fabbrica Non credo sia suo amico Già Quelle erano le nostre costruzioni Due volte 20 di shield Ha un tipo totalmente nuovo Giusto per salutarlo Lo vedo Quella era la nostra costruzione Sei impossessato delle nostre Raga io sto abbassando la vita Di tutti i player del gioco Va bene dai Per qualcun altro si fa le kill E loot Anche quello è un modo dai Di perdere Sì di perdere E rimanere senza loot Fino alla fine Steph no? Forse senza colpi 20 di shield 20 di vita No raga non è possibile 20 di shield due volte 20 di shield Ma ce la facciamo A parte che stiamo facendo arrabbiare Non so quanti player Tantissimi Cavolo vorrei avere un lanciarazzi Al posto di lanciagranate Perché sarebbe stato Molto più semplice 41 di shield Va bene Beh guarda Quanto meno ne stanno uscendo Tutti senza shield Il problema è che Noi la stiamo finendo Senza colpi Esatto Non è una bella cosa Io comunque ho anche due medikit Quindi cura Già ne abbiamo Il problema 20 di vita Vabbè Steph Cioè sembra una presa in giro Dove li sparano? Dove li sparano? Perché non sei stato tu Quest'ultimo colpo? Dalla destra In qualche montagnone Porca miseria Sono imprendibili Dove siete ora? Aia Dietro di noi Dove dietro? Totalmente Che vigliacchi Cioè Fermo a mirare Capito? Dove? Ah sei vivo? Pensavo che deve essere atterrato Scusa No non ho capito dove Ah qui dietro Questo albero fa schifo Togliti Ok Vigliacchissimi Ok Aspetta Qua ti rispondo Caro mio Vai 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 Tira granate Tira Una terra Esatto L'ho preso con la granata Per un altro team alla sinistra Ho fatto un headshot Mi tirano granate Steph Devi pensare al team di sinistra Mi sto tirando granate Così l'interrompo Una terra Steph Dell'altro team Che ha lasciato questi di fronte Ok Da dove ti sparano? Mi stanno distruggendo tutto Mi stanno distruggendo tutto Qui dalla sinistra Corre Bravi Bravi Per il due contro uno Due contro Oh mio dio Bello Gli sfigati come noi Alla fine ce la fanno Luttiamo però Perché lo devi dire? Non rompere È una frase detta Con cuore In un momento di felicità Adesso mi sniperano me E poi perdiamo Esatto Va bene Va bene? Ok Sì Ti sta bene? Succede? Erano piti 3, 2, 1 Bam Tieni di roba Che bella Che bella la roba di questi qua Allora lancia granate anche voi Che però io ho già Un fucile d'assalto decente Riesco a trovare Sai chi secondo me è vivo? Il famoso venti di vita Che secondo me è ancora vivo Sì sono quasi sicura anche io Steph non avevano un bel assalto Cioè mi ritrovo ancora con le M16 bianco Ma ti sembra E' quello verde? Va bene Ma io c'è sfigatissima Beh quello verde è molto meglio Dov'è? Allora siamo vicini alla nuova zona Guarda meno male che ho potuto sfruttarmi bene Il mio lancia granate alla fine Infatti li ho Bene Stabilizzati che c'è? Smetti di chiacchierare Ok E comprendi Ok Dov'è? Tieniti i miei razzi Ok Ti stavano colpi No 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 sono a posto Tutto a posto Allora presumo che non posso essere in nessuna montagna E' dentro qualche costruzione che è già stata fatta Oppure dietro qualche albero Esatto L'unica cosa che bisogna stare attenti è non prenderci una sniperata gratis Importantissima sta roba E' la cosa più importante Quindi salta tanto Bulla tanto a caso Vabbè sto usando le tue E ora non c'è molto spazio Eccolo Eccolo E' stato un game strano Non ti posso dire siamo stati bravi Perché è stato davvero strano A livello di 20 HP tolti siamo stati bravissimi A livello di kill meno Ci sta Ci sta Bel game Voglio vedere quanti danni ho fatto Sono curioso Damage to player 1100 Che per 4 kill sono pochissimi raga Davvero davvero pochi Comunque ci fermiamo così Siamo riusciti sia a testare quello che volevamo Sia a vincirci un game Quindi soddisfatti al 100% Game particolare Ma comunque piacevole Qua sotto come sempre nuovi video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ciao